Buongiorno a tutti, conferenza pre-gara di Brindisi Taranto, come al solito c'è mister Ezio Capuano a vostra disposizione, partiamo come al solito da Antenna Sud, media partner del Taranto. Mister, buongiorno, non è un azzardo dire che proprio perché ci si scontra con la compagine maggiormente in difficoltà di questo girone è forse la partita più difficile in assoluto perché va maneggiata con le molle e con le pinze. Buongiorno, ma penso che hai fatto un'introduzione di altissima qualità, però sicuramente per gente di calcio, esperta e che in questo mondo da tanti anni, per noi, sai perché è la partita più difficile? Perché nell'immaginario dell'essere umano, se vinci non hai fatto nulla, se non vinci è un dramma, non so se rendo l'idea. Poi è normale che noi sappiamo l'insidia della partita, una partita difficilissima per quello che ho detto, perché lo ripeto, perché se vinci è tutto normale, non hai fatto nulla. Se non vinci diventa un dramma e quindi noi lo sappiamo benissimo, ma non è assolutamente così. Noi sappiamo che è una partita che ci sono mille insidie, loro hanno avuto una penalizzazione, quindi sicuramente sono sconfortati anche dalla posizione di classifica. Vorranno fare una partita come giusto d'orgoglio, però dall'altra parte noi in questo momento, a sei giornate dalla fine, abbiamo 54 punti, siamo quarti in classifica. Davanti a noi abbiamo tre squadre, di cui Avellino e Benevento, che hanno investito l'inverosimile. E poi abbiamo una sorpresa importantissima, qual è la Juve Sabbia. Cosa voglio dire? Che in tante giornate abbiamo fatto un campionato faraonico. Ok? E quindi se fino a qualche settimana fa si sperava, magari, prima di mantenere la categoria, poi di raggiungere i playoff, oggi noi abbiamo l'obbligo di migliorare la classifica. Quindi cosa voglio dire? A prescindere l'avversario, come dico tante volte, a prescindere il campo doveva giocare, se giochi in casa, noi bisogna far punti perché in questo momento noi possiamo veramente concludere un campionato che rimarrà negli annali del calcio tarantino. Per quanto concerne la partita, penso di non essere il ragazzino o colui il quale allena da pochi giorni. Io conosco le insidie della partita e sono straconvinto di quello che hai detto. E' la partita più difficile che possa capitare, per un motivo molto semplice, a prescindere la valenza dell'avversario. Perché uno vede la classifica, dici se vinci non hai fatto nulla, ma non è così. Se non vinci potrebbe essere un dramma. Noi invece penso che l'abbiamo preparata bene, andremo a fare una partita con grandissima umiltà, con rispetto notevolissimo dell'avversario, sperando che il campo ci possa dare ragione. Poi non capisco un motivo. La grandissima amicizia che c'è tra Taranto e Brindisi, il perché si chiudono le trasferte soltanto ai tarantini. Se qualcuno mi dice dove hanno sbagliato i nostri tifosi, dove quest'anno... Io vedo che tutte le trasferte sono libere. A noi ci impediscano di andare a vedere una partita a questi poveri ragazzi. Ma poi l'amicizia che c'è tra queste due squadre, addirittura a noi si pensava di andare a giocare a Brindisi, quindi vuol dire che c'è una vicinanza forte. Potrebbe essere sicuramente una bella giornata. La domenica delle palme invece si impedisce ai tarantini di andare a Brindisi. Logicamente siamo penalizzati anche noi come squadra. Non capisco però accetto e noi accettiamo tutte le decisioni. Questa era una cosa che volevo dire. Non capisco il motivo per il quale con una grande amicizia tra le due città ci si impedisce di andare a vedere la partita. Accettiamo e andiamo avanti. Buongiorno mister, Francesco Leggeri, Box Tarentum e Punti di Vista Press. Senta, io volevo un po' rimanere sul stesso tema perché poi l'aspetto tecnico-tattico, come al solito, Daniele, Luigi, Alessandra, Angelo, sono più pratici di me in questo campo. Io torno su questo. Quattro e quattro punti di penalizzazione. Con motivazioni diverse, i giocatori del Taranto, il suo mister, lo staff, sono uniti, fanno un comunicato, si esprime in una certa maniera, a Brindisi, i giocatori, tra virgolette, denunciano la società per l'aspetto economico. Quindi due contraposizioni mi consentono di ammetralmente opposte. E quindi, moralmente, lei come vede i suoi calciatori? Perché qui l'obiettivo sono play-off più in alto possibile. Ma la mia squadra... E' importante il morale. Io non conosco le problematiche delle altre squadre, avendo disconoscenza non mi permetto di dare giudizio, anche perché penso che mi conoscete, non mi sono mai permesso di parlare degli altri. Gli altri parlano di noi, noi non abbiamo mai parlato degli altri, almeno io personalmente nella mia vita vedo quello che succede in casa mia. La squadra, moralmente, sta benissimo. E' una squadra che ha sei giornate dalla fine, Francesco, ha tre squadre davanti, di cui Avellino e Benevento hanno investito decine di milioni, voglio dire, e sono due squadre che sono davanti a noi, più questa squadra che merita applausi, che è la USA. Quindi se ha sei giornate dalla fine, hai tre squadre davanti, per quello che hai conquistato sul campo, voglio dire, in loro c'è grandissima autostima e, come giusto che sia, noi in questo momento abbiamo l'obbligo di guardare la classifica, e abbiamo anche l'obbligo di guardare i risultati delle altre squadre, come gli altri guardano i risultati del Taranto, perché in questo momento noi vogliamo finire alla grande e fare un play-off da protagonista. Altrimenti sarei un'ipocrita se dicessi qualcosa di diverso. Salve, Mestre Daniele Criti, Cronica Atlantina. A proposito della partita, l'importanza, come sempre, ha ragione quando dice lei, abbiamo tutto da perdere. Nel senso che, per i non addetti ai lavori... No, per gli altri. Per i non addetti ai lavori. Per i sciocchi. Per i non addetti ai lavori. Per coloro i quali non capiscono un cazzo di calcio, e guardano le classifiche. Per i non addetti ai lavori, devono vedere solamente il risultato, vincere anche con due gol di scarto, e come dice lei, il Taranto ha fatto il suo dovere. Perché comunque i numeri del Brindisi ti fanno pensare anche questo, peggioro l'attacco, peggioro la difesa. Però noi sappiamo che questa è stata anche una squadra capace di pareggiare a Castellammare di Stabia, 0-0, il Brindisi parla. Fare i due gol a Monopoli. Esatto, di vincere a Sorrento. Quindi nel calcio ci vogliono sempre le motivazioni. Parliamo della partita, del momento. L'importanza, come ti avevo detto anche domenica, non di partire bene, perché il Taranto parte bene, ma l'importanza sempre di sbloccare il risultato. E poi non trascinarti. In questo periodo, no, e finisco il discorso, questa prima parte, in questo periodo, più prestazioni che risultati. C'è il Taranto, fa tantissimo gioco, tante azioni per poi concretizzare appena appena, diciamo, un gol. Quindi ci manca questo cinismo, ecco. Perché dico questo? Perché poi in proiezione play-off le partite devono essere affrontate anche in maniera diversa. Cioè essere più cattivi, determinati e colpire il momento giusto. Questo è il mio primo pensiero. Non so, abituarsi anche a fare questo tipo di partite. Bisogna vedere per cinismo cosa si intende. Spiego bene anche a chi ci segue da casa. Il Taranto è sempre lo stesso, anche quanto magari io ho sentito dire il Taranto ha fatto un gran secondo tempo, li ha messi in linea negli ultimi 30 minuti. Il Taranto dopo un minuto e mezzo doveva far gol con Matera e con Panico. Abbiamo visto la stessa partita, no? Dopo un minuto e mezzo il Taranto doveva andare in vantaggio. ci hanno annullato un gol che era irregolare ma per questione di centimetri. Quindi siamo stati sempre lì, abbiamo preso punizioni, abbiamo preso calci d'angolo. Poi quando trovi una squadra che si mette giustamente negli ultimi 30-40 metri, poi se non trovi gol è difficile farlo. Ma anche col Sorrento, che io avevo studiato come squadra propositiva, con l'onestà che ci contraddistingue e contraddistingue anche voi giornalisti, il Sorrento il secondo tempo ha buttato la palla avanti due volte e su di una di quelle ci stava anche con una verticalizzazione prendendo, ma si sono difesi nell'area loro. Poi ci sono messi a cinque perché gli mancava Blondet. È normale che poi non puoi sbagliare quei gol. Io non so se è cinismo. Per esempio la palla di Canutè, non so se è cinismo o meno. La grande giocata fatta in verticale con l'ingresso di Zonda, palla verticale di Simeri, quando il portiere non c'era e per un millimetro non è arrivato bifulco di testa, non so se è cinismo. Quando De Marchi è a due metri dalla porta, non so se è cinismo. Bisogna vedere cosa significa per cinismo. Sicuramente noi in questo momento non concretizziamo tutto quello che creiamo. Perché anche andando a ritroso, noi col Benevento negli ultimi tre minuti abbiamo sbagliato l'impossibile due volte uno contro zero. Contro il Picerno, mi soffermo su squadre importanti, non dico quello che è successo a Messina, che siamo andati tre volte davanti alla porta. Il gol di Fabbro a Messina, ve lo ricordate? Il gol del primo tempo di De Marchi, uno contro zero sullo 0-0. Quindi voglio dire, noi siamo una squadra molto molto razionale, una squadra che in questo momento crea tanto, non tantissimo, subisce pochissimo. Sicuramente non concretizziamo tutto quello che creiamo, ma lì più di allenare la cattileria del giocatore. Io per esempio ai miei giocatori, sai cosa gli dico? Che chi non segna il martedì, mercoledì non segnerà mai la domenica, perché devi essere cattivo. Quello che ti capita durante una seduta di allenamento, poi ti capita durante la partita. Se tu lì sei preparato con cattiveria, magari hai più facilità di far colla anche la domenica. Però ai ragazzi li posso dire soltanto bravi, soltanto applausi. Una squadra che, non mi ricordo quanti calci d'angolo abbiamo fatto domenica, come nelle ultime partite. Quando tu fai 10-12 calci d'angolo, significa che sei sempre lì, e la squadra prende la palla e te la butta su. Sicuramente hai detto bene, noi in questo momento concretizziamo molto, molto poco rispetto a quello che creiamo. Però un allenatore, quando crei in una partita di serie C, io non dico 10 palle gol, ma quando crei 3-4 palle gol e non la metti dentro, è molto grave, perché anche quello che creiamo noi sono situazioni che di solito una squadra di calcio fa gol. Ma io non vado agli ultimi minuti, io vado al primo minuto, come abbiamo approcciato la partita, pronti via, inserimento di Matera, da due metri alla porta dobbiamo fare gol. Riprende la palla Panico e sulla linea il portiere ti fa la parata, giusto? Quindi voglio dire, noi il solito Taranto, quello che ti aggredisce subito, quello che ha grande umiltà riconoscendosi nei propri limiti, attenzione a quello che dico, noi siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando per un motivo incontrovertibile. Noi ci riconosciamo nei nostri limiti, cosa voglio dire? Noi sappiamo i limiti che abbiamo e cerchiamo di compensarli attraverso l'aggressività, attraverso la corsa, attraverso la compattezza e penso che il campionato che stiamo facendo è sotto gli occhi di tutti. Un'ultima cosa e chiudo. Sul centrocampo, non sul moto, non mi soffermo sul moto, il moto si può stare in maniera diversa, ma su questo, secondo me, questo rombo di centrocampo, cioè che sarebbe col vertice basso e il vertice alto, ad avere due interni, che aiuta anche perché giocare con due centrocampisti nell'ultimo periodo è veramente molto faticoso, anche per i centrocampisti e nello stesso tempo puoi sfruttare Orlando come vertice alto, cioè è un'idea che ci hai pensato qualche volta. Allora, io stai parlando benissimo, mi stai facendo tante cose, però bisognerebbe vedere anche gli allenamenti. Se io vi dico che domani ne mancano cinque o sei, nessuno ci crede, no? Poi, ogni domenica purtroppo è così, poi uno deve vedere gli allenamenti durante la settimana e a volte magari quando ti mancano determinati giocatori o che non stanno bene, sei anche costretto a variare segmenti, a variare qualcosa. Sicuramente il rombo ci sta dando grande soddisfazione perché è un sistema di gioco che ho fatto sempre, negli anni, però quelli che poi ti debbono determinare debbono stare bene, perché se non stanno bene, amen, perché poi hai dei vantaggi nella fase propositiva, puoi avere degli svantaggi della fase transitiva, non so se transitiva negativa voglio dire, nel momento in cui ti conquista in palla. Io sono, penso di essere stato nella mia carriera molto attento soprattutto nella fase di non possesso, cosa voglio dire? Per me una squadra deve avere le due fasi, la fase di possesso quando hai la palla nei piedi, però devi essere attento anche quando te la recuperano, altrimenti gioi alla gara di Baldina, gli dici, vabbè, facciamo 4-4-2-5-5 alla Canà e magari poi quando ti recuperano palla andiamo soltanto nell'aggredire le linee di passaggio, non è il mio calcio, quindi a volte tante scelte vengono fatte anche in funzione dei giocatori come sono fisicamente, come si sono allenati, se hanno qualche problema e quant'altro. Noi domani avremo una caterva di giocatori fuori, magari qualcuno che ha disconoscenza legge la formazione e dice ma come mai non ha fatto gioare quello lì, ma come mai non ha fatto gioare l'altro? Noi non abbiamo mai detto prima di una partita di assenze, non abbiamo mai parlato anche perché poi chi ha giocato ha fatto sempre bene. Sì, Luigi Carrini che ha detto lo sport, hai appena detto che il Taranto è sempre lo stesso però c'è anche la difficoltà quando l'avversario si chiude di trovare degli spazi. Domani credo che possa essere questa la maggiore difficoltà visto che il Brindisi magari farà una partita difensiva. Io non so la partita che ha preparato l'allenatore del Brindisi, sicuramente l'avrà preparata come lui meglio crede di prepararla quindi io so come l'abbiamo preparata noi. È normale che noi magari, ma io non penso solo il Taranto, qualsiasi squadra anche io l'anno scorso se vi ricordate quando vi si lamentava che si faceva sempre 0 a 0 perché poi fare 0 a 0 non è mica facile. Magari io ero molto più attento nella fase di non possesso perché sapevo benissimo che se mi allungavo avevamo dei limiti quindi potevamo avere delle grandi difficoltà. Io penso che un allenatore possa fare ciò che ritiene più vantaggioso che la propria squadra. Io non so il Brindisi la partita che farà domani sappiamo noi la partita che abbiamo preparato è normale che noi sappiamo di trovare e troveremo grandissime difficoltà. La interpreteremo su quelli che sono i nostri codici io adesso non so se il Brindisi ci viene a prendere alto se si abbassa se lavora in una fase intermedia del campo questo hanno un allenatore sicuramente che avrà preparato la partita nel miglior modo possibile rispetto a quelle che sono le caratteristiche del Brindisi e penso che avrà studiato anche noi però io ho totale disconoscenza noi l'abbiamo preparata sicuramente diversificando diverse giocate. Salve mister io come al solito distribuisco un po' di questi quello sempre salve mister allora per quanto concerne la squadra ovviamente ha fatto riferimento a delle assenze però il nostro pensiero va soprattutto a Ferrara in che condizione è ancora irrecuperabile? Ferrara era il giocatore che in quel momento non ce l'aveva nessuna squadra di C e l'abbiamo perso è un anno per noi particolare dottoressa ne abbiamo subite di tutti i colori Ferrara domani non è tra i convocati ma domani ci sarà un esercito fuori non è solo Ferrara però non c'è nessun problema chi andrà in campo sicuramente farà la propria parte no Ferrara domani non c'è se la domanda era su Ferrara Ferrara assolutamente non c'è sicuramente anche per conoscere non lo so ma speriamo che non abbia ancora per moltissimo in base a questo adesso assimilo magari due quesiti che riguardano la linea nevralgica il primo volevo sapere mister proprio parlando di laterali di quinti il tipo di gioco che le stanno proponendo soprattutto per quel che concerne la corsia destra meglio le caratteristiche che le stanno garantendo in alternanza Mastro Monaco che abbiamo rivisto tornare e Valietti e poi per quel che concerne la mediana poi mi ricollego a una domanda che porto dalla direttore responsabile di giornale del suo blu Maurizio Mazzarella che riguarda l'inserimento magari dal primo di Zonta contro un brindisi che si deve chiudere per dare una spinta magari un po' più propositiva già dalla nevralgica allora partiamo dalla prima domanda Mastro Monaco è un ragazzo che sta convivendo con dei problemi fisici ok ha avuto un problema a Torre del Greco un problema al ginocchio povero ragazzo quindi si allena un pochettino col con da goccia e essendo un ragazzo eccezionale ha la soglia del dolore altissima quindi anche lui ha qualche problema Valietti Valietti penso che sia facendo appieno il proprio dovere poi è un ragazzo quindi ci possono essere dei momenti positivissimi e dei momenti non positivi ma altrimenti non gioavano in C questi giocatori per quanto concerne Zon come fa lei a sapere che il brindisi si chiude io non sono convinto io sono convinto che il brindisi giocherà una partita diversa da quella che pensate voi penso che il brindisi si debba chiudere penso che faranno una partita di orgoglio tenteranno come giusto di vincere quindi poi se voi sapete che si chiuderanno questo non lo so saranno problemi loro niente io sceglierò la migliore formazione che al momento ritengo che possa andare in campo come ho fatto sempre nella mia carriera quindi zonda non zonda andrà in campo qualsiasi giocatore degno in quel momento di portare la maglia del Taranto le rivolgo altre due domande la prima sempre una volta circa un mesetto fa mister proprio con me a rispondere a mio quesito mi aveva detto che sarebbe stata possibile la coesistenza ma anche l'assortimento tecnico-tattico di Simeri e De Marchi e sinceramente come abbiamo prima analizzato in corso d'opera vederli giocare più accorpati come giustamente ha sempre detto lì magari con il trequartista alle spalle ha dato dei buoni frutti e ha fatto creare più in avanti il mister si può fare qualcosa ma tutto si può fare nel calcio però ci sono dei momenti guardi dottoressa una cosa è l'aspetto iniziale vale a dire la struttura iniziale di una squadra una cosa è la rottura di un equilibrio attraverso delle sostituzioni perché poi la sostituzione ti rompe un equilibrio di una partita quindi sono i momenti la tenuta dell'avversario la struttura dell'avversario se l'avversario è in una condizione organica notevole se sta calando la sostituzione a volte viene fatta non perché chi sta gioando sta facendo male anche in fase di lettura dell'avversario detto ciò per me l'ho detto tante volte Simeri e De Marchi possono coesistere tranquillamente insieme nella maniera più assoluta le stanno dando già delle risposte rispetto a quando io sono contento di tutti i giocatori che alleno non ce n'è uno che io non sono contento sono contentissimo non contentissimo sono fiero e orgoglioso di loro e chiudo questa volta discostandomi dall'aspetto tecnico-tattico una sua opinione sul comunicato che è stato divulgato da parte firmato dalla squadra dallo staff comunicato nostro? sì comunicato della squadra perché alcuni magari hanno dato del hanno visto comunque un allarmismo filtrante vogliamo un po' ma noi abbiamo ribadito chiedo Venia noi abbiamo ribadito la veriticità di tutto fermo restando che lo ribadisco la penalizzazione per me per la squadra è stata una bomba atomica perché si era a disconoscenza una cosa che non si pensava mai che potesse arrivare così abbiamo ribadito la veriticità di tutto noi al momento non c'è nessun tesserato del Taranto che ha delle pendenze col Taranto parlo di questa gestione poi le cose della preistoria io sono a disconoscenza io dico di tutto ciò quindi noi si è detto sempre la verità perché c'erano anche tante voci non veritiere quindi al momento abbiamo voluto dare anche tranquillità all'ambiente e l'abbiamo dimostrato nelle partite noi siamo andati in campo dando sempre il meglio di noi stessi e lo faremo fino alla fine ma non c'è ombra di dubbio su questo quindi se noi abbiamo fatto questo comunicato perché abbiamo riportato la verità storica al momento dottoressa la vedeticità storica al momento ma il senso d'appartenenza penso che a noi non è mai mancato mister scusi posso aggiungere una cosa per quanto riguarda il comunicato ma che è sulla prova sulla parola impegno in generale io credo che al di là di tutto quello che succede da per tutti io credo che no no perché io l'ho interpretato così no un professionista deve sempre impegnarsi questo lei lo ha fatto a potenza anche con niente con nulla no ci sono squadre che hanno vinto anche i campionati io parlo della squadra no no attenzione io a potenza ho vinto il campionato della dignità 13 anni fa noi no comprende il mio discorso no no adesso no quindi se lo dice a me comprende il mio discorso impegno 13 anni fa siamo stati estromessi dal campionato siamo stati riammessi sapendo che eravamo falliti e ci facevano giocare mercoledì e domenica noi non sapeva i soldi non per andare in trasferta ascolti noi non sapeva i soldi per fare il pranzo noi ci siamo salvati sul campo questa è storia ma mica solo lì ma anche a Trapani a Trapani cucinava mia moglie ai giocatori quindi l'impegno non alberga nel Taranto ma anche perché non vedo l'impegno quando noi abbiamo fatto un comunicato dove abbiamo detto la verità poi ti do del tu se vai nell'intrinseco della domanda io Ezio Capuano se dovesse allenare il Taranto il Grottaglie facciamo il Manduria a qualsiasi squadra e dovesse capitare una pandemia totale calcistica io fino a quando starò al capo di questa squadra si gioerà sempre come se fosse la partita della vita quindi la parola impegno è una parola che io disconosco nel calcio perché noi che facciamo calcio attenzione a ciò che dico siamo dei privilegiati della vita l'impegno sa chi lo deve dare quello che si alza alle 5 la mattina poverino che quando si deve asciugare il sudore adesso che fa caldo gli rimane il grasso in faccia e deve portare 1300 euro alla famiglia e far divertire i figli in quello che è possibile e mandarli a scuola quella è la gente che ammiro io ma noi noi siamo solo dei fortunati della vita poi c'è chi sta in serie a e chi sta in serie c chi guadagna ma noi siamo dei fortunati ma impegno di cosa ma impegno di cosa impegno non è una parola che alberga nel vocabolario di Ezio Cavuano nel vocabolario di Ezio Cavuano alberga la parola dignità la parola lealtà nel mio vocabolario alberga la parola di rappresentare sempre la propria città volevo solo aggiungere ovviamente non è una domanda diretta a lei perché ci sono diciamo ci sono gli avvocati che stanno vedendo però alberga ancora questa penalizzazione è qui buttata in area perché c'è fiducia ma noi noi siamo guardi Francesco noi siamo convinti di avere 54 punti quelli che abbiamo conquistato noi siamo convinti che ci ridaranno tutti e quattro i punti poi ce ne ridaranno tre noi i punti li abbiamo fatti e noi siamo convinti e abbiamo fiducia in quello che ci viene detto noi i punti che abbiamo fatto sono 54 e li abbiamo fatti col sudore li abbiamo fatti con l'orgoglio li abbiamo fatto cercando di lottare in ogni allenamento quindi quelli ci debbono essere restituiti su questo non c'è delle decisioni sono sempre contro il Taranto sempre contro la mia squadra sempre contro i miei tifosi cioè io non vedo una trasferta libera dei Tarantini ma i Tarantini è gente civile ma non siamo mica all'armata di Oxford che combatteva nel 1798 ma chi sai ma noi il Taranto è gente per bene cioè noi ci viene invietato di andare a vedere una partita domani una cosa è giocare con due o trecento persone al centro una cosa è giocare con ottocento mille quindi noi come squadra abbiamo subito un'altra secondo me ingiustizia perché Brindisi e Taranto sono due città molto vicine dove regna l'amicizia io leggevo che bisognava andare a giocare a Brindisi e poi ci vietate di portare i tifosi a Brindisi quindi è una cosa secondo me inconcepibile però accettiamo anche questa decisione grazie prego bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti